abbiamo finalmente un account il nome del donatore Vela dirà dirò che è il capo bastone ce l'abbiamo fatta amico mio solo grazie a te non pensavo sarei mai riuscito ad avere un account ed ora eccomi qui a griffare sono davvero felice che ti piacciono i miei video insani per sdebitarmi spero di regalarti ancora tanti video divertenti dopo una lunga giornata di lavoro andare su minacraft e bruciare le case degli sbarbatelli ti ripaga di tutto quanto grazie mentalgen86 per aver sposato la causa dei griefer